No, nessun consiglio. L'Ele non ha bisogno di consigli, ha talmente carisma e personalità che non ha bisogno di consigli. Appena detto in conferenza stampa che sarebbe stato impossibile, infatti non lo ha fatto, risultare un'occasione del genere come la Roma. Ragazzi, la Roma rappresenta una città meravigliosa, dei tifosi meravigliosi, è una grande squadra e quindi non si può risultare la Roma per nessun motivo al mondo. Cosa pensate L'Ele sono ero un aspettato di Uri? Penso che magari ci saranno stati dei problemi alla base perché se no non si spiega. Tra lui e la società. Del Vecchio però ne conosce luce ed ombre di questa città, dal punto di vista giallorosso. Questa città tra luce ed ombre è la più bella del mondo. Come fa Aterossi a non bruciarsi? Perché a motivazione tale lui è romano, romanista e quindi non può bruciarsi assolutamente, farà sicuramente bene. Grazie.